quanti ricordi fugaci quante piccole cose quanti incontri casuali quanti umili drammi intraveduti indovinati sospettati sono per la nostra mente giovanile ancora agnara come fili conduttori che la guidano a poco a poco alla conoscenza della verità desolante durante le lunghe fantasticherie vagabonde che mi distraggono sulle strade dove vado bighellonando a caso con l'anima trasportata dal sogno a ogni istante quando mi volto indietro col pensiero ritrovo di improvviso piccoli fatti già avvenuti leti o tristi che tornano alla mia fantasia come uccelli dai cespugli davanti ai miei passi andavo vagando quest'estata e lungo una strada della Savoia che domina la riva destra del lago di Bourget e mentre guardavo quella massa d'acqua luccicante azzurra un azzurro unico al mondo pallido su cui il sole al tramonto stendeva bagliori cangianti sentivo in cuore quel sentimento di tenerezza che nutro dall'infanzia per la superficie dei laghi dei fiumi e del mare sull'altra riva della vasta distesa liquida così ampia che non se ne vedono i punti estremi l'uno smarrentesi verso il Rodano e l'altro verso il Bourget s'erge l'alta montagna dalla vetta dentellata come una cresta fino all'ultima cima del d'un d'uchat dai due lati della via le vigne correnti d'albero in albero soffocavano sotto le foglie e esili rami dei loro sostegni e si svolgevano da tronco a tronco a festoni a ghirlande verdi gialle e rosse nereggianti di grappoli la strada era deserta bianca polverosa e su di essa un tratto sbucò da un boschetto ad alte piante che chiude il villaggio di Saint-Innocent un uomo il quale curvo sotto un fardello e appoggiandosi a un bastone mi veniva incontro quando mi fu più vicino riconobbi in lui uno dei mercianti ambulanti che vanno per le campagne a vendere di porta in porta piccoli oggetti a buon mercato ecco che a quella vista mi sorge nel pensiero un lontanissimo confuso ricordo quello cioè di un incontro fatto di notte fra Angertale e Parigi quando avevo venticinque anni il massimo piacere per me in quell'epoca della vita consisteva nel remare tenevo in affitto una camera in una bettole a D'Argentale e ogni sera prendevo il treno degli impiegati il quale interminabile lento va deponendo di stazione in stazione una quantità di uomini recanti ciascuno un piccolo involto tozzi pesanti perché sedentari coi calzoni gualciti e sformati dalla sedia burocratica quando quel treno che mi pareva sempre impregnato ad odore d'ufficio di scatole verdi e di carte protocollate si fermava ad Argentale io ne scendevo e correvo alla miaiole la quale m'aspettava per filar via sull'acqua e a gran colpi di remo andavo a pranzo ora a Besonso ora a Chateau ora a Epinei ora a Saint-Tuen poi tornavo ormeggiavo il battello e ripartivo a piedi per Parigi nelle sere in cui avevo la luna sul capo una notte scorsi davanti a me un uomo che camminava sulla strada bianca oh incontravo quasi ogni volta qualcuno di questi viandanti notturni dei sobborghi parigini dei quali i borghesi ritardatari hanno tanto timore quell'uomo camminava dinanzi a me lentamente sotto un carico pesante mi diressi dritto verso di lui con un passo rapidissimo che risuonava nella strada lui si fermò si voltò poi siccome continuavo ad avvicinarmi a lui attraversò la parte centrale della strada portandosi dall'altro lato nel momento in cui lo oltrepassavo velocemente mi gridò ehi buonasera signore rispogi buonasera amico riprese va lontano di questo passo vado a Parigi non ci metterà molto lei cammina veloce quanto a me ho la schiena troppo carica per andare in fretta avevo rallentato il passo perché quel uomo mi rivolgeva la parola che cosa trasportava in quel grosso pacco vaghi sospetti di delitto mi sfioravano la mente e mi incuriosivano ogni mattina nei fatti diversi dei giornali se ne raccontavano tanti compiuti in quel luogo nella penisola di Grenvie che qualcuno doveva pur essere vero non si inventa così solo per divertire ai lettori una simile litania di arresti e di misfatti vari qual è quella di cui sono piene le colonne affidate ai cronisti la voce tuttavia di quell'uomo era più timida che ardita e il suo contegno era stato fino ad allora assai più prudente che aggressivo e voi dove andate gli domandai a mia volta ad Asniè ci abitate sì sono merciaio ambulante e abito là nel dirciò dal vialetto percorso di giorno dai viandanti all'ombra degli alberi si era avviato verso il centro della strada io feci altrettanto ci scambiamo uno sguardo sospettoso stringendo ciascuno di noi il bastone ma quando gli fui ben vicino ebbi a rassicurarmi completamente e lo stesso avvenne in lui non va dubbio perché mi chiese vi rincrescerebbe di camminare un po' meno velocemente perché? perché con questa strada di notte non mi piace porto sulle spalle parecchia merce e penso quindi sia meglio essere in due piuttosto che solo non si aggrediscono due uomini che vanno insieme non aveva torto e aveva paura consentì dunque ad appagare il suo desiderio ed eccoci entrambi camminare a fianco l'uno dell'altro a un'ora del mattino sulla strada che d'Argentel porta ad Asnier come va che rincasate tanto tardi dovendo pure correre qualche rischio gli chiesi mi rispose che non era suo proposito di tornare a casa in quella sera avendo portato la mattina roba sufficiente per tre o quattro giorni ma la vendita era stata fruttuosa e si era visto costretto a ritornare a Asnier per poter consegnare il giorno dopo molti oggetti comprati dai clienti sulla parola mi spiegò con schietta soddisfazione che era molto abile a far l'articolo avendo una naturale disposizione per esprimersi con efficacia e che quei gingigli aninnoli che faceva vedere gli servivano soprattutto per collocare tra una chiacchiera e l'altra la merce che non poteva portare facilmente con sé soggiunse ho una bottega a Asnier la manda avanti mia moglie ah siete ammogliato sì signore da quindici mesi ho trovato una moglie carina rimarrà stupita nel vedermi tornare stanotte e mi raccontò la storia del suo matrimonio aveva desiderato per due anni questa ragazza ma lei aveva indugiato a lungo prima di decidersi dall'infanzia lei possedeva nell'angolo d'una strada una botteguccia nella quale vendeva un po' di tutto nastri fiori in estate principalmente fibbie per stivaletti molto belle nonché parecchi altri ninnoli di cui un fabbricante le riservava la specialità ad Asnier la bluetta era molto nota la si chiamava così perché portava spesso vestiti celesti e guadagnava denaro avendo destrezza in tutto quel che faceva in quel momento gli pareva ammalata la credeva incinta ma non era sicuro il loro commercio andava bene lui viaggiava soprattutto per far vedere campioni a tutti i piccoli commercianti delle località vicine era una specie di commesso viaggiatore per conto di certi industriali e lavorava al tempo stesso per costoro e per sé e voi che fate domandò mi diedi delle arie da gran signore raccontai che possedevo ad Argentel un battello a vela e due iole da corsa che venivo tutte le sere ad esercitarmi al remo e che amante del moto talvolta tornavo a Parigi a piedi dove avevo una professione che la sai capire lucrosa riprese per dinci se avessi quattrini come voi non mi divertirai a correre le strade così di notte non sono luoghi sicuri questi mi guardava di sbieco e mi domandavo se non fosse pur tuttavia un malfattore molto scaltro che non voleva correre un rischio inutile ma mi rassicurai quando morborò un po' meno in fretta per favore il mio pacco è pesante apparivano le prime case di Asnie eccomi quasi arrivato disse noi non dormiamo accanto al negozio questa notte è custodito da un cane un cane che vale quattro uomini e poi gli alloggi sono troppo cari nel centro della città ascoltate signore mi avete reso un gran servigio perché quando viaggio col fagotto sulle spalle non mi sento molto tranquillo dovete quindi venire a casa mia per bere una tazza di vino caldo in compagnia di mia moglie sempre che si svegli perché ha il sonno duro e non vuole essere disturbata quando dorme poi vi accompagnerò col mio randello fino alle porte della città senza il sacco non temo più nulla rifiutai insistai mostinai vi saccanì con tale ansiosa aspettativa e insieme con si vivo e sincero un increscimento domandandomi affeso se fosse perché non volevo bere con un uomo come lui che finì per cedere e lo seguì lungo una strada deserta verso uno di quei casoni in rovina che formano il sobborgo dei sobborghi dinanzi a quell'abitazione rimasi titubante quell'alta baracca di gesso aveva l'aspetto di un covo di vagabondi di una caserma di briganti suburbani ma lui mi fece passare per primo spingendo la porta che non era chiusa mi tiresse per le spalle in un'oscurità profonda verso una scala che io cercavo coi piedi e con le mani per la legittima paura di cadere in qualche buca di cantina quando ebbi incontrato il primo gradino mi disse salite è al sesto piano frugandomi in tasca rinvenne una scatola di cerini e rischiarai l'ascesa mi venne dietro ansando sotto il sacco ripetendo è alto è alto quando fummo al sesto piano della casa cercò la chiave attaccata con uno spago all'interno dell'abito poi aprì la porta e mi fece entrare in una stanza che aveva il solo in toneco con una tavola seseggiola in mezzo e contro il muro un armadio da cucina vado a svegliar mia moglie disse poi scenderò in cantina a prendere del vino qui non si conserva si avvicinò a una delle due porte che davano in quella prima camera e chiamò bluette 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 non rispose gridò più forte bluette bluette poi picchiando col pugno sul battente esclamò ti sveglierai perbacco attese appoggiò l'orecchio alla serratura e riprese calmo beh se dorme bisogna lasciarla dormire vado a prendere il vino aspettate due minuti uscì mi si è detti rassegnato che cosa ero venuto a fare io qui d'improvviso trasalì nella camera della moglie qualcuno parlava sottovoce si muoveva piano piano quasi senza rumore diavolo ero caduto in un tranello come mai non si era svegliata codesta bluette al fracasso che aveva fatto suo marito ai colpi che aveva battuto all'uscio non era forse un segnale per dire ai complici c'è un sorcio nella trappola vado a sorvegliare l'uscita è affar vostro certo là dentro si agitavano sempre più fu toccata la serratura fu fatta girare la chiave mi batteva il cuore mi ritrassi fino in fondo alla camera dicendo fra me su difendiamoci e afferrando con due mani la spalliera ad una sedia di legno mi preparai ad una lotta l'uscio fu socchiuso spuntò una mano che lo tenne semi aperto poi una testa d'uomo coperta da un cappello tondo di feltro scivolò fra il battente e il muro ed ecco che io vidi due occhi che mi fissavano poi così rapidamente che non ebbe il tempo di fare un movimento di difesa l'individuo il presunto malfattore un pezzo di giovanotto a piedi nudi semivestito senza cravatta con le scarpe in mano un bel giovane in fede mia quasi un signore balzò verso l'uscita e disparve nella scala mi rimisi a sedere l'avventura diventava divertente e attesi il marito che impiegò molto tempo a trovare il vino finalmente lo sentii che saliva le scale e il rumore dei suoi passi mi strappò una risata una di quelle risate solitari e tanto difficili da trattenere entrò portando due bottiglie e mi domandò mia moglie continua a dormire non l'avete mica sentita muovere indovinai l'orecchio incollato all'uscio e dissi no affatto chiamò di nuovo polette lei non rispose né si mosse lui si voltò verso di me spiegando vedete non vuole che torni di notte a bere un bicchiere con un amico credete dunque che non dorme certo non dorme più aveva l'aria scontenta ebbene trinchiamo disse e subito manifestò l'intenzione di vuotare le due bottiglie l'una dopo l'altra lì ad agio ad agio mi mostrai risoluto questa volta bevi un bicchiere poi mi alzai non parlava più d'accompagnarmi e guardando l'uscio della moglie con aria dura con l'aria dell'uomo irritato con l'aria del bruto nel quale sonnecchia la violenza mormorò bisogna pure che apra quando ve ne sarete andato osservai questo codardo diventato furibondo senza saperne il perché forse per un oscuro presentimento per un istinto di maschio ingannato che non può vedere le porte chiuse mi aveva parlato di lei con affetto ora l'avrebbe certamente battuta gridò ancora una volta scuotendo la maniglia polette una voce di persona che sembrava ridestarsi rispose dietro altra mezzo ehi che c'è chi hai non mai sentito tornare a casa no dormivo lasciami tranquilla apri l'uscio quando sarai solo non mi piace che tu conduca uomini a bere in casa di notte allora me ne andai inciampando per la scala come se n'era andato l'altro di cui ero stato il complice e rimettendomi in marcia verso Parigi pensavo che in quella topaia avevo assistito a una scena dell'eterno dramma che si recita ogni giorno sotto tutte le forme in tutti i ceti sociali